Sì, sì, non vedo l'ora appunto di riniziare da dove ho finito l'anno scorso, ma sicuramente è stato un anno positivo per me e voglio continuare a dare di più e a migliorarmi anche la prossima stagione. Sì, sì, quello deve essere il nostro obiettivo, abbiamo fatto un girone di ritorno veramente importante, abbiamo fatto tanti punti, ci siamo risollevati da una situazione che inizialmente non era, diciamo, positiva e se partiamo con quello spirito, con quell'atteggiamento e con le conoscenze che abbiamo anche imparato sia l'anno scorso che stiamo rinfrescando anche in questo ritiro sicuramente faremo un buon campionato. Sicuramente il ritiro è fatto per rimettersi in forma, faticare e quindi si mette già in preventivo prima di venire qui che un po' di fatica la devi fare, però personalmente io mi sono allenato, ho continuato a tenermi in forma e sì, fatica, dolori muscolari eccetera, però diciamo che riesci a superare tutto. Sì, sì, noi cerchiamo di affrontare tutte le partite allo stesso modo, pertanto sia con avversari di Serie A che di categoria inferiore, entreremo con una giusta mentalità cercando di fare quello che stiamo già provando in questi giorni, quindi sono sicuro di questo.